Ha rintracciato l'abitazione dell'ex moglie, si è appostato ed ha suonato ripetutamente il campanello per farsi aprire al punto che la donna, una retina terrorizzata, ha chiamato i carabinieri. I militari intervenuti hanno così arrestato un uomo di 67 anni con l'accusa di stalking. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'ex marito in passato aveva già infastidito la donna e in più occasioni i due erano separati dal 2017. Da quel momento lui aveva iniziato ad inviarle numerosi messaggi sia telefono che via mail contenenti frasi d'amore in cui le chiedeva di riallacciare il rapporto ma anche minacce ed insulti. Nell'ultimo periodo si era inoltre presentato più volte sia davanti a casa che sul luogo di lavoro della ex moglie. La donna così lo aveva già querelato due volte. Per cercare di evitarlo era stata costretta addirittura a trasferirsi a Firenze dalla provincia di Arezzo dove risiedeva oltre che a cambiare indirizzo di posta elettronica e numero di telefono. Ma il 67enne dopo averla seguita era riuscito comunque a rintracciarla individuando la sua nuova abitazione.